Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, 3 km di coda tra Empoli-Est ed Empoli in direzione Mare e code a tratti tra la Strassigne e l'allacciamento per l'A1 in direzione Firenze. In A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Aglio. Sulla Statale 223 di Paganico, rallentamenti per incidente tra Ponte Macereto e Bagnaia. Sulla Statale 1 Aurelia, chiusi gli svincoli di Rio Torto in direzione Genova e di Gavorrano e Rosignano Marittimo in direzione Roma. A Firenze per i lavori della tramvia, domani dalle 9 alle 17, restringimento di carreggiata in via Paganini. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze per i lavori della tramvia, domani di Firenze e Comune di Firenze